Ciao a tutti, oggi siamo a Magrete in campagna, vi voglio presentare una porzione di casa con cortile privato e terrazzo, ideale per due nuclei familiari. Venite con me che la presento. L'abitazione principale si sviluppa al primo piano ed è composta da ingresso, cucinotto, sale e un ampio bagno. Proseguendo nella zona notte troviamo due camere matrimoniali e un comodo ripostiglio. Attraverso una scala interna si arriva al piano terra dove è possibile ricavare un monolocale con ingresso indipendente. Vi saluto da questo bellissimo terrazzo che come vedete ha faccia sulla campagna. A completare la porzione di casa abbiamo un garage doppio. Per informazioni veniteci a trovare il nostro ufficio oppure chiamate i numeri qua sotto. Ciao!